Non c'è chi si cura e chi no, ma un adattamento delle cure a seconda del paziente. Il Veneto ha redatto un documento di linea e guida ad uso dei medici impegnati nella lotta al coronavirus ed è un testo questo che ne contestualizza un altro uscito un mese fa da cui erano scaturite alcune polemiche. Matteo Mokrovicic. Non è che il paziente che non viene intubato non viene curato, viene indirizzato ad altre forme di trattamento meno invasivo e più compatibili con la sua situazione di base. Il professor Paolo Navalesi dirige l'Istituto di Anestesia e Reanimazione dell'Università di Padova ed è uno dei medici in prima linea contro il coronavirus. Ogni giorno il suo lavoro è anche scegliere le cure più appropriate per ciascun paziente. Chi è in terapia intensiva per esempio non sempre va intubato. È quanto diceva in sostanza un documento uscito ai primi di marzo della Società Italiana degli Anestesisti. Allora, visti i casi di carenza di letti in Lombardia, avevano tracciato linee guida per ottimizzare i posti. Ma c'era stato chi ci aveva letto una sorta di scelta, chi curare e chi no. Niente di più falso, precisa Navalesi, che assieme ad altri due esperti per la Regione Veneto ha redatto un secondo documento per contestualizzare ed evitare fraintendimenti. Ci è capitato di decidere di non portare un paziente in terapia intensiva ritenendo che l'intubazione e tutta la serie di manovre e somministrazioni di farmaci ad esse collegato potessero portare piuttosto un danno al paziente che non un beneficio. Con lui al Testo Veneto ha lavorato Camillo Barbisan, responsabile del servizio di bioetica dell'azienda ospedaliera di Padova. Non si tratta di assolutamente nulla al di fuori di quello che è nell'alveo, di una tradizione già segnata. Non selezione di pazienti, questo lo curo, questo non lo curo, ma dare a ciascun paziente ciò che è di reale beneficio.